In fuga dalla guerra e verso la salvezza le colonne di persone per uscire dall'Ucraina e lasciarsi alle spalle bombardamenti, distruzione e morte. Ci sono i bambini insieme alle mame, ma ci sono anche tanti bimbi giunti in Italia, orfani. Un'emergenza umanitaria in qualche modo in attesa, la quale si sta dando risposta ormai da oltre un mese attraverso un'importante rete di solidarietà, anche nell'agro sarnese Nocerino, in campo tutte le istituzioni per garantire un'accoglienza anche in diversi casi e quindi specifica. Per i bambini è stato chiesto di velocizzare la possibilità di adozione per ridurre i tempi. Ne abbiamo parlato anche con il procuratore capo del Tribunale dei minorenni di Salerno, che ha sottolineato l'importanza di vedere in campo tutte le istituzioni. È un'emergenza che a quanto pare per adesso a Salerno e nella provincia non c'è, ma che probabilmente potrebbe esserci da qui a breve. Il discorso dei minori ucraini è un discorso molto particolare, che ci sta vedendo impegnati su tutti i fronti, sia me che il Presidente Avalone e il Tribunale Previno Renni, di concerto con la Prefettura e con tutte le altre istituzioni, dalla Questura, il colonnello Trombetti dei Carabinieri, sempre disponibile, la Guardia di Finanza, l'Anci. È un problema che sta cercando di trovare soluzioni, perché ci troviamo di fronte a delle situazioni totalmente diverse rispetto a quello che abbiamo rilevato durante lo sbarco dei minori stranieri dall'Africa. Sono situazioni diverse, per il momento non sono state registrate vere e proprie situazioni di abbandono, perché ci sono poi delle particolari figure giuridiche in Ucraina, che ovviamente devono trovare il loro ossetto e il riconoscimento anche qua in Italia.